L'aspetto della salute è un aspetto centrale nella consapevolezza di tutte le regioni italiane e anche della regione Emilia Romagna, ma la tradizione è quella dell'attenzione al sistema sanitario come sistema di cure. Nel cercare di mantenere questa eccellenza vogliamo però provare a fare un passo in avanti e ad affrontare davvero un salto di qualità sui temi della prevenzione, della promozione della salute, degli stili di vita. In questo senso stiamo promuovendo iniziative legislative, ci sarà presto una nuova legge sulla prevenzione e abbiamo ritenuto importante aderire anche formalmente alla rete delle città sane proprio perché siamo consapevoli che un lavoro di squadra, un lavoro di insieme è importante per riuscire a ottenere questo grande obiettivo, una salute che non diventa più soltanto cura ma diventa davvero attenzione al restare in salute, alle qualità della vita e su questo c'è davvero bisogno dell'impegno di tutti e di tutti i settori che convergano in questo lavoro comune.